Civil Week 2024 siamo a Buscate insieme all'associazione Volare Insieme e insieme a Stefano, che sei un educatore? Io sono un educatore del servizio di formazione e l'autonomia L'Aurora di Inveruno e abbiamo partecipato a questi laboratori organizzati da Volare Insieme, insieme anche ad altri centri per persone con disabilità di tutto questo territorio del Castanese. Infatti state lavorando in rete, mi spiegavi poco fa, e che cosa fate per la Civil Week? Allora, oggi parte la mostra di tutti i lavori che sono stati prodotti nei laboratori dell'autunno 2023 e autunno 2022 con le scuole elementari, con Volare Insieme, che ha organizzato in rete questi laboratori e noi centri per persone con disabilità. E il valore, secondo te, di partecipare a un'iniziativa come la Civil Week qual è? Ecco, sono tantissimi i valori di questa cosa, quello più importante che mi sento di dire è il lavoro di rete, la comunità e il collaborare tra enti diversi, quelle che può essere un'associazione di volontariato, centri pubblici e le scuole. Perfetto, quindi adesso direi però di ascoltare i protagonisti e per Cavalleria partiamo da Sabrina. Ciao Sabrina, grazie, senti un po', che cosa fai in questi giorni di Civil Week e dimmi un po' anche se ti piace quello che stai facendo. Allora, noi, come diceva Stefano, siamo qui per, come posso dire, sono un po' emozionata. Guarda, non deve essere molto, siamo tra amici, facciamo una chiacchierata. Allora, con Volare Insieme stiamo facendo questo progetto. Questo progetto a me piace tanto. Io sono un'operatrice sociosanitaria, ho il diploma e posso dire che a me piace lavorare con i bambini. E ti posso dire che mi piace tanto, quello sì. E sono educati i bambini? Sì, 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 certo. E in questi giorni ti piace la Civil Week, ti diverte anche? Sì, 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 sì. Ascoltiamo anche cosa da dire Alessandro. Ok, che cosa fai in questi giorni di Civil Week e dimmi se ti stai divertendo, annoiando, se ti piace oppure no. No, mi piace con i bambini, sai, con i bambini e mi diverto. Cosa che ti piace di più fare? Beh, oggi abbiamo messo il filo, prima dicendo i nostri nomi e poi buttandolo a ognuno, dicendo i nomi e poi abbiamo fatto una specie di... Così dice... È un agio... Eh, io non lo so cosa avete fatto, un reticolato, una rete, si parlava prima di rete, giusto? Concludiamo con Samuele. Samuele, dici la tua. Cosa state facendo in questi giorni e dimmi se ti piace, cosa ti piace di più. Dove, qua? Qua non lo so. Qua, qua alla Civil Week, cosa ti piace di più fare? Ehm, fare gli avretti, i tratti e le altre cose. Grazie. Allora, io direi che tutti insieme possiamo salutare dicendo buona Civil Week. Ci siamo, uno, due, tre. Buona Civil Week!